Oggi è sabato 2 agosto e stiamo partendo direzione il nulla, andiamo a Passo Valles in mezzo ai boschi, ai cervi, alle marmotte Siamo come sempre tutti e quattro e ci aggiorniamo doppio doppio piccolino piccolino Alessandro amore chiamalo ma guarda mamma, 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 ciao così ordinato Ascoltate tutti, eravamo alla stanga e adesso Manuel vi spiegherà perché si chiama la stanga secondo te perché si chiama la stanga? no, secondo me non lo so è il nome originale si chiama la stanga perché moltissimi anni fa quando non esistevano questi trabicoli qua chiamati macchine e ci si spostava a cavallo lì era un punto di riposo per i cavalli, c'era la stanga dove devare le retini nel cavallo nooo davvero non 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 Grazie a tutti. 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 E qui abbiamo il lettino per alle. Che bello. Il lettino per il mio bimbo. Perché apriamo? Non so neanche dove siamo, dopo ve lo dico. Scrivenia. Cassettiera, specchiera. E il bagno. E il bagno. Nooo. Oh, stasera. Oh, stasera facciamo libro. Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ciao. Andiamo a fare le pappe? Andiamo fuori a ciò, no? Io ho già fatto casino. Io ho già fatto casino. Se così mi vedete meglio. C'è delle serie. C'è delle serie che non riuscivo ad asciugare i capelli con il phon e quindi li ho messi così. Cosa bella ha fatto? Ci sono stati pubblicati? Ci sono stati pubblicati, non riuscivo a fare le pappe di nuovo. Iniziamo a fare la fine. No, no, non riesco. Non mi provocare le pappe di nuovo a te. Andiamo giù a te. Allora. Ti piace? No, non. Ti piace? Ti piace? I miei giochi? Bisogna andare qua signora Bene, qui si conclude la prima giornata Abbiamo cenato Non mi ricordo neanche più dove siamo andati Adesso siamo tornati in albergo Sono le dieci e mezza E quindi andiamo su E ci rivediamo domani Ciao